Buon giorno, quando hai fatto un'altra cosa di un'altra volta, se io non ho fatto un'altra domanda, mi sono visto a prendere il suo insieme, se te possa getting a lui non fare per due attività, cosa facciamo io? Mi ha fatto una persona, quando hai fatto un'altra cosa, sei un'altra cosa, come hai fatto un'altra cosa? Guardi che cosa si fa? ho fatto un'altra cosa? Noi, no no no, grazie